Commessa IMS ha ancora problemi, lo Stato mette in cassa integrazioni lavoratori. Lo scorso 3 marzo infatti la RT Comdata Network ha comunicato ai sindacati la decisione di IMS, per motivi legati al budget, dicono di applicare da alcuni giorni il cap delle chiamate in entrata, limitatori di chiamate, previsto dal contratto commerciale di proroga della commessa IMS. Le chiamate in entrata, in pratica, che nell'ultimo mese sono aumentate soprattutto per avere informazioni legate all'assegno unico, invece di essere incanalate giustamente verso gli operatori, fanno restare gli utenti in attesa negli ultimi minuti di ogni ora, con il contact center, nonostante la disponibilità degli operatori che non ricevono chiamate quindi, ma poi si riversano su di loro successivamente in modo massiccio, generando dei servizi per gli utenti e l'applicazione e anche per le società che gestiscono il servizio, che possono incappare in penali perché non riescono a gestire l'enorme flusso di chiamate in entrata. Per i sindacati questa è una situazione inaccettabile e paradossale per i lavoratori che sono sulla commessa IMS, che è un ente pubblico che mette il cap alle chiamate dei cittadini pur di stare nei limiti contrattuali e non tenendo conto dei lavoratori che sono in cassa integrazione per riduzione dei volumi, paradossalmente. La Wilcom, ESL e Cifistel hanno già chiesto un incontro ai vertici di IMS e alla Nuco IMS Servizi, che dopo aver eletto i componenti del CDA è in cerca di dirigenti da assumere, ma dimentica i lavoratori, tuonano i sindacati, che restano a casa con lo spettro di una percentuale di cassa integrazione che potrebbe aumentare per loro già dal mese di aprile. I sindacati sono stati perentori, lo Stato dovrebbe essere garante del salario dei lavoratori, ma in questa situazione sta dimostrando per loro solo disinteresse, lasciando i lavoratori sotto ammortizzatori sociali. Insomma, una situazione assurda, questa definita così dai sindacati ad aggravare i problemi che già sono noti relativamente ai call center. Come SLC, Fistel e Wilcom abbiamo chiesto immediatamente un incontro ai vertici dell'IMS e di IMS Servizi per capire e per fare in modo che abbia termine questo modus operandi. Non capiamo le motivazioni per cui la funzione pubblica, che è lo Stato stesso, possa attuare queste limitazioni, tanto da determinare l'applicazione della cassa integrazione nei confronti dei lavoratori stessi. In poche parole lo Stato sta mettendo in cassa integrazione i comportamenti, perché è determinata appunto da un abbassamento di volumi. Noi non l'accettiamo come SLC, Fistel e Wilcom e andremo avanti fino a che non si abbia una soluzione chiara in merito.